Vorrei invitarvi e vi invito ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Giovanni Leggeremo qualche versetto dal capitolo 17 Siamo nel testo conosciuto come la preghiera sacerdotale o secondo qualche altro modo di dire la preghiera dominicale da Dominus Signore, quindi la preghiera di Gesù E quando qualcuno vi potrebbe chiedere qual è la preghiera che Gesù ha fatto Molti in maniera istintiva sono subito pronti a dire il Padre nostro Quello invece è un modello di preghiera che Gesù ha lasciato Il testo del capitolo 17 di Giovanni è una delle preghiere che Gesù ha elevato e che ci è stata ancora riportata Infatti il primo verso del capitolo 17 dice Leggiamo il verso 11 Verso 20 Allora io non prego solo per questi Ma anche per quelli che crederanno in me Per mezzo della loro parola Affinché siano tutti uno Come tu O Padre sei in me E io in te Siano anch'essi uno in noi Affinché il mondo creda Che tu mi hai mandato E io ho dato loro La gloria Che tu hai dato a me Affinché siano uno Come noi siamo uno Io sono in loro E tu in me Affinché siano perfetti nell'unità E affinché il mondo conosca Che tu mi hai mandato E che li hai amati Come hai amato me E ci fermiamo qui Ho scelto da questa preghiera I passaggi Dove avrete sicuramente notato Si parla di unità E sono stato particolarmente Catturato Dalla parte finale Del verso 11 Dove Gesù prega Affinché siano Uno Come noi E mi sono posto Questa domanda Come sono uno Gesù e il Padre Se lui prega Se lui prega Affinché siano uno Come noi Noi non riusciamo Ad afferrare L'intento Della sua preghiera Se non comprendiamo In che modo In che maniera Il Padre e il Figlio Sono uno Se pensiamo ad uno Come a un valore Matematico Algebrico Aritmetico Uno Unità Avremo delle difficoltà Perché il Padre e il Figlio Non sono Uno Solo Perché il Padre Non è il Figlio Il Figlio Non è il Padre Ma noi crediamo E insegniamo Che il Padre è Dio E che il Figlio è Dio C'è un unico Dio Ma il Padre e il Figlio Non sono la stessa cosa Altrimenti Non saremmo una Chiesa Trinitaria Ma I primi credenti Lo stesso Giovanni Che scrive queste parole Ha delle grandi difficoltà Perché il mondo giudaico È la culla Del monoteismo Un solo Dio Adonai Se preferite Yahweh Anche se non è preciso L'Eterno L'Iddio solo Gesù perché fu condannato a morte? Di che cosa fu accusato? Di essersi fatto Dio Di aver parlato di se stesso Come di Dio E per i giudei Questo è abominio Questo è bestemmia La Chiesa Cristiana Nasce in questa culla Dove c'è l'Iddio Uno E solo Dove si sviluppa? In un territorio Sotto l'egemonia Sotto il controllo Di chi? Chi regnava Sulla Giudea Ai tempi di Gesù Diciamo un po' di interrogazioni Di storia biblica Chi c'era? C'erano I nostri antenati I romani E i romani Avevano un solo Dio? No Avevano una famiglia di Dio A Roma E nell'impero di Roma Regnava Il politeismo Ed è per questo Che era ammesso Qualsiasi culto Qualsiasi insegnamento religioso E allora Provate ad immaginare I nostri antenati Nella fede Che in questo tempo Si trovano Da un lato Il monoteismo Dall'altra parte Il politeismo E loro in mezzo Che devono insegnare Predicare Che Gesù è Dio Voleva dire Andare contro l'uno E sembrare Di tendere Verso i romani Perché se Gesù è Dio Se il padre è Dio Veniva facile dire Cosa che è stato detto Voi avete più dei Ma non è così C'è un'altra via Tra gli estremi C'è sempre C'è sempre la via Di Dio Tra gli opposti C'è sempre La soluzione Che non appartiene Agli uomini La rivelazione La rivelazione di Dio Manifestatasi In Cristo Gesù Assume una veste Per la razionalità Dell'uomo A volte Incomprensibile La trinità La trinità Il padre Il figlio Lo spirito E in questo capitolo E nei capitoli Che lo precedono Il 15 Il 16 Noi troviamo Degli insegnamenti Delle parole Da parte di Gesù Che si identifica Con il padre Ma poi dice Tu sei colui Che mi ha mandato Io ho detto Le cose Che ho ascoltato Alla tua presenza Io ti ho glorificato Perché ho fatto Le cose Che tu mi hai mandato A fare Poi parlando Di sedice Discepoli Non vi preoccupate State tranquilli Io non vi lascerò Orfani Sì io me ne vado Perché di qui A breve Per un altro poco Sarò con voi Poi me ne andrò Ma io non vi lascio Orfani Ma vi manderò Non il padre Ecco una terza figura Il paracleto Lo spirito Che vi guiderà In ogni Verità Ciò che lega Il padre Il figlio E lo spirito Sapete che cos'è? La verità Il figlio È la verità Che si è fatta carne Egli ha annunciato La verità Ma quale verità? Quella che era Alla presenza Nella gloria del padre Ed è venuta Ad abitare In mezzo a noi Giovanni apre Il Vangelo Parlando del Cristo Del suo annunzio Pieno di grazia E di verità E Gesù parla Dello spirito Come di colui Che ci avrebbe guidato In ogni verità C'è un legame C'è un legame E di se stesso Io sono la verità E questa è una pietra E questa è una pietra D'inciampo Questa per molti È uno scandalo Perché non si può Predicare un Vangelo In un mondo Di ecumenismo In un mondo Di vogliamoci bene La situazione Dei cristiani Di allora È la nostra situazione Di oggi Da una parte Il fondamentalismo L'ebraismo È l'iddio solo E noi oggi Viviamo una fede Di chi dice È solo così E basta Dove La verità Diventa legge E da un'altra parte C'è la verità Che appartiene A tutti Che è la verità Della grazia È la verità Che dice Vogliamoci tutti bene Perché alla fine Il Signore Ci salverà Tutti quanti La Bibbia mi dice Chi avrà creduto In me Sarà salvato In me In Cristo Non vi altro nome Sotto al cielo E sopra la terra Nel quale vi è salvezza E questo nome Non è il nome Di un politico Non è il nome Di un letterato Non è il nome Di un filosofo Non è il nome Di una divinità romana O greca Ma è il nome Di Cristo Gesù Nome Nel quale Dice sempre La scrittura Ogni ginocchio Si piegherà E confesserà Che egli È il Signore Non da una parte Non dall'altra Ma in mezzo In mezzo È la verità Di Cristo Io ti prego Affinché siano uno Come noi Il padre e il figlio Sono uniti Dalla verità Ricordate La domanda Drammatica Di Pilato Che davanti a Gesù Chiede Che cos'è La verità Chi ha la verità Chi possiede la verità Una Umanamente Ci sono tante verità E dalla prospettiva umana Tutte le verità Sono vere Possiamo assistere Alla stessa scena Tutti quanti E il giorno dopo Raccontare Quello che abbiamo visto Sarà difficile Che due di noi Raccontino Quello che hanno visto Utilizzando Le stesse parole Perché la verità A cui abbiamo assistito Viene Personalizzata Viene fatta nostra E questo è un dramma Che riguarda Anche la fede Quando il Vangelo Comincia Non essere più La verità di Dio Ma comincia ad essere Un Vangelo Personalizzato Quando la predicazione Di Tizio È diversa Dalla predicazione Di Caio Quando la predicazione X È diversa Dalla predicazione Y E c'è l'assemblea C'è l'uditorio Ci sono gli ascoltatori Che si domandano Ma com'è Che non si ascolta Lo stesso messaggio Affinché siano uno Come noi Che siano uno Come noi Come è possibile Che Gesù riesce Ad essere uno Con il Padre Egli è nella gloria Del cielo È chiamato dal Padre A rinunciare A rinunciare alla gloria A venire ad abitare In mezzo a noi A diventare Dio In carne A rivestire La nostra umanità E a morire Per noi E davanti a questo invito Il figlio Che cosa fa Essendo uno Con il Padre Cosa ha detto Perché non mandi Lo spirito Perché non ci vai tu Perché non ci mandi Un serafino Un cherubino Facciamo una cosa Richiamiamo A Lucifero Dalle falde Dell'inferno Ma andiamo a lui A morire sulla croce L'unità del figlio Con il Padre Si manifesta Nel non avere Una controproposta Ma nell'accettare L'indicazione Che comporta Rinunciare Alla propria gloria Annichilire Se stesso E venire a diventare Sacrificio Perfetto Per noi Egli prenderà Del mio E ve lo annunzierà Dice Gesù Dello spirito Così come lui Ha preso dal Padre E ce lo ha portato E noi non abbiamo avuto L'onore di assistere Di ascoltare Di partecipare Ai suoi insegnamenti Ma noi siamo I figli Di quella fede Che non è diretta Emissione Di Cristo Gesù Noi siamo stati Raggiunti Dall'Evangelo Predicato Dallo spirito O c'è qualcuno O c'è qualcuno di voi Che ha incontrato Gesù C'è qualcuno di voi Che era sul monte Durante il sermone C'era qualcuno di voi Che ha partecipato Alla moltiplicazione Dei pani e dei pesci Fatti vedere Matusalemme Dovresti avere Un paio di migliaia Di anni Se ci sei Fatti vedere Non mi dubbi Che ci sia qualcuno Qui che abbia Duemila anni Ma l'unità Della Trinità Ha portato La verità A noi Attraverso Lo spirito Per chi aveva Chiesto Di avere qualcosa Di più solido Del latte Mi accorgo Che questo È cibo Abbastanza Solido Anche perché Una delle difficoltà Del ministerio È predicare Nello stesso messaggio Il padre Il figlio E lo spirito Solitamente La nostra predicazione Limitata Com'è nel tempo Ma anche perché Non può essere Troppo articolata Va su dei temi Ben precisi Che possono riguardare L'opera del padre Che possono riguardare L'opera del figlio Che possono riguardare L'opera dello spirito E lo stesso avviene Con i canti Difficilmente Abbiamo un canto Un inno Che ci presenti L'opera Di tutta la Trinità Però noi siamo Una chiesa trinitaria Quando noi dichiariamo Di credere In un Dio Unico Ma in tre persone Padre Figlio E spirito Dobbiamo anche Aver la capacità Di andare oltre Una confessione Di fede E argomentare La distinzione Che c'è Tra i tre E cosa invece Li unisce C'è una unità Di intenti Tra i tre C'è un'unica opera Che essi portano avanti E quando Gesù E quando Gesù prega Per noi affinché Noi fossimo Uno come loro Noi dobbiamo Guardare all'opera Della Trinità Dobbiamo dire Signore apri I nostri occhi Facci comprendere Voi come agite Tu come agisci Perché guardando Alla tua opera Noi possiamo Imparare Che l'unità È raggiungibile Se si lavora Tutti per lo stesso Obiettivo Se si è pronti A mettersi Da parte Affinché L'opera Continui Gesù ha rinunciato Alla gloria Del cielo Affinché L'opera Il progetto Del padre Andasse avanti Gesù è salito Su di una croce Ha dato la sua vita Affinché Quell'opera Andasse avanti Gesù ha deciso Di lasciare la terra Affinché lo spirito Venisse E continuasse La sua opera Gesù non ha mai detto Io sono indispensabile Ci devo essere Fino alla fine Dei tempi Gesù ha detto Cielo e terra Passeranno Ma che cosa Non passerà La sua parola È la parola Del figlio Non è la parola Del padre Perché il Vangelo Ci dice Che le cose Che lui ha udito Dal padre Quelle cose Ci ha detto Per cui le parole Che Gesù ha parlato Non sono le sue Ma sono le parole Del padre E Gesù dice Del figlio Egli vi prenderà Delle cose Che io vi ho annunziato E ve le porterà Quindi la parola È sempre la stessa Ma nel corso Della storia La Trinità Alterna La sua presenza Per insegnarci Che nessuno Di noi È eterno Che ognuno Di noi Ha un tempo Di vita Che ognuno Di noi Ha un tempo Di ministero Che ognuno Di noi Ha un tempo Di esercizi E in questo tempo Dobbiamo maturare La capacità A un certo punto Di mettere in dubbio Noi stessi Non si raggiunge L'unità davanti A un tavolo Facendo Un contratto Una delibera E sottoscrivendola A tutti quanti Quante firme Si mettono Non essendo Per nulla D'accordo Ci sono situazioni Dove si è costretti A non dire La propria opinione Ma perché lo si fa? Per il bene Per conservare L'unità Si rinuncia Alla propria Espressione Si rinuncia Alla propria Libertà In certi Frangenti Ma non lo si fa A malincuore Lo si fa Considerando Che quella è la scelta Migliore da fare In quel momento E così come si fanno Di queste scelte Per conservare L'unità Bisogna avere Anche la capacità Di dire Signore Se io sono Di intralcio Io sono E rimango Comunque disutile Quando vuoi Mettimi da parte Ma purché La tua opera Va di avanti Che nessuno Arrivi a pensare Di se stesso Signore Se non ci so io Qua non si fa niente Facciamo Come i bravi Di Don Rodrigo Sto matrimonio Non sa da fare Perché Don Rodrigo Dice Lucia Appartiene a me L'opera è di Dio La chiesa È del Signore Gesù La manifestazione Appartiene allo Spirito Noi chi siamo? Siamo destinatari Dell'opera Siamo i destinatari Della manifestazione Siamo i destinatari Dell'annuncio Ma possiamo Ma possiamo avere L'onore Di essere strumenti Al servizio Del Signore Dell'opera Possiamo essere Onorati Di essere Servi Nella sua Vigna Sua Vigna Sua Così come Sua L'opera Come sua La chiesa Come sono Sua Le anime Dei salvati Compresa la tua E compresa la mia L'egoismo La voglia Di dominare Ha limitato Nei secoli La potenzialità Della chiesa Gesù ha annunciato Che sta per lasciarli E i discepoli Che sono persone Mature come noi Anzi Erano Persone mature Come noi Cosa fanno? Mica dicono Guardandosi in faccia Facciamo in modo Che quello che il Signore Ha fatto Dori nel tempo Hanno fatto così Hanno detto Preghiamo Adoperiamoci Per continuare Questo messaggio Ma invece Hanno fatto Quello che noi Non facciamo mai Ma che non ci sarà più Il maestro Qua comando io Io sono il più anziano Io sono stato chiamato Per prima Io sono quello Che ha dormito Sul suo seno Io sono quello Che ha fatto Quest'altro Che ha fatto Quest'altro E cosa ci insegna La scrittura? Che Gesù Conoscendo Il loro Parlare Dice loro Chi vuole essere Il primo? Sia servo Di tutti Ecco la legge Del Vangelo Ecco ciò Che Gesù Aveva portato Gesù per essere Il primo Il primo Il primo genito Della creazione Il primo genito Dai morti Per essere il primo Si è messo a servizio Di tutti quanti Per essere il primo È morto Per tutti quanti E il padre E il padre lo ha glorificato Perché egli ha glorificato Il padre Con la sua vita Siamo disposti A un tale sacrificio? Se ci sembra Troppo duro Allora Signore Tienici nella squadra Non ci interessa Essere i primi Secondi Ci interessa Esserci Far parte Di quelli Che sono I tuoi Di quelli Che tu hai chiamati Ad essere Uno È Gesù Che non è L'ultimo Nato Non è il predicatore Che è sceso Dalla montagna Insiste Nella sua preghiera Ti prego Affinché siano Perfetti Nell'unità Abbiamo letto Al verso 23 Perfetti Nell'unità A dirci Lo so Che vi sforzerete Di andare d'accordo Che vi sforzerete Di stare assieme Che vi sforzerete Di conservare L'unità Ma non sarà mai Un'unità perfetta Perché? Chi di voi C'ha la risposta? Sei perfetto Non siamo perfetti Allora tutto quello Che faremo Non sarà mai perfetto Ma non lo faremo Perché vogliamo Qualcosa di perfetto Ci sforzeremo Di farlo Perché Gesù Ha pregato Affinché noi Lo facessimo E allora qualcuno Cattivo Scettico Dubbioso Potrebbe dire Ma Dio Non poteva Realizzare Questa preghiera Subito Così In 4 e 4 8 Tutti con lui E allora il testo Ci fa capire Che molte volte La preghiera È un modo di esternare Ciò che è dentro Di noi Attraverso Questa preghiera Gesù Prospettava Quelli che erano Con lui Le cose Che dovevano Accadere E il suo pregare Assicurava loro Io prego Per voi E oggi Gesù Che cosa fa Per noi La scrittura Ci dice Che egli È alla destra Del padre Nella gloria Del padre Dopo tutto Quello che ha fatto Continua Ad amarci E a lavorare Affinché La verità Della trinità Sia sempre Manifestata Egli intercede Per noi E noi dobbiamo Guardare al loro Esempio E seguirlo Gesù Intercede Per noi E noi invece Dopo aver pregato Un giorno Due giorni Una settimana Per qualcosa Diciamo Vabbè E basta Gesù sta Da duemila e più anni Intercedendo Alla presenza Del padre Anche per l'unità E poi arrivano I cristiani Che vorrebbero fare L'unità Dalla sera Alla mattina Si potrebbe fare Se ci mettissimo Tutti con la faccia Per terra Avessimo tutti La forza Di dire A chi si sente Diverso Nel senso Di più bravo Di più capace Passami addosso Anzi Togliti le scarpe Siccome ti amo Mi permetto Di lavarti Anche i piedi Perché chi Ha cuore L'unità Manifesta L'amore Non si guarda Chi sta di fronte Come un avversario Non si vede L'antagonista Non c'è Il rivale Ma c'è un fratello C'è una sorella Che fa parte Dello stesso corpo E l'apostolo Paolo ci dice Che la chiesa È un corpo Il corpo di Cristo Fatto di molte Membra Diverse E qui ci sono Dei motti Molto belli Ci sono molti Che inneggiano All'unità Però dicono L'unità è bella Nella diversità È un modo per dire Stiamo assieme Però ognuno Si faccia i fatti suoi Stiamo pure insieme Però ognuno Conservi la sua identità Forse più che unità Nella diversità Noi dovremmo essere Diversi Ma uniti Rispettandoci l'un l'altro Sapendo che abbiamo Delle diversità Ma a rinunciare Alle nostre diversità Per il bene Dell'unità E qualcuno potrebbe Chiedermi Ma sei sicuro Di quello che stai dicendo E allora io ti offro La conclusione A questa Riflessione Sempre Dall'unica verità Che posso Proporti Epistola Ai filippesi Capitolo 2 Dal verso primo Se dunque Vi è qualche consolazione In Cristo Se qualche Conforto D'amore Se qualche Comunione Di spirito Se qualche Tenerezza E compassione Rendete perfetta La mia gioia Avendo uno stesso Modo di pensare Uno stesso Amore Un solo Accordo E una sola Mente Non facendo Nulla per rivalità O vanagloria Ma con umiltà Ciascuno di voi Stimando gli altri Più di se stessi Non cerchi Ciascuno Il proprio interesse Ma quello Degli altri Perciò Abbiate in voi Lo stesso sentimento Che è stato In Cristo Gesù Il quale Essendo in forma Di Dio Non considerò Rapina L'essere Uguale a Dio Ma annichilì Se stesso Prendendo la forma Di servo Divenendo simile Agli uomini E trovato Nell'esteriore Simile ad un uomo Abbassò Se stesso Divenendo Ubbidiente Fino alla morte E alla morte Di croce Perciò Dio Lo ha sovranamente Innalzato E gli ha dato Un nome Che al di sopra Di ogni nome Affinché Nel nome di Gesù Si pieghi Ogni ginocchio Delle creature Celesti Terrestri E sotterranei E ogni lingua Confessi Che Gesù Cristo È il Signore Alla gloria Di Dio Padre Servi del Signore Io non vi chiamo Più servi Ebbe a dire Gesù Ma vi chiamo Amici E ci ha lasciato Un esempio L'amico È colui Che ha la forza Di dare la sua vita Per gli amici Se siamo amici Di Gesù Dobbiamo avere La forza Di rinunciare A noi stessi Affinché La sua opera Avanzi in noi E attraverso Di noi Dio vi benedica Dio vi benedica